Musica Domani è il giorno dello sciopero generale, quattro ore di stop decise dai sindacati. Il trasporto pubblico però funzionerà regolarmente in virtù della situazione straordinaria creata dalla partita della Nazionale a San Siro. Discorso che non vale per Trenord a rischio disagi. Domattina corteo di CGL Cisle Will da Porta Venezia. È stata inaugurata stamattina la nuova centrale operativa di ATM. Viene unificato il controllo delle tre linee della metropolitana con strumentazione all'avanguardia. Il costo per l'azienda è stato di 11 milioni e mezzo di euro. Il comune ha ufficializzato il ricorso contro la sovrintendenza per la vicenda legata al Vigorelli. Una battaglia che prosegue a colpi di carte bollate, quindi con la giunta Pisapia che insiste con il progetto di un nuovo polo sportivo con un velodromo part-time. I collettivi studenteschi hanno occupato l'ex cinema De Amici, non lontano dall'Università Cattolica a Milano. Per cinque giorni, assicurano i ragazzi, si terranno laboratori su varie tematiche culturali e sociali. Buonasera a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TGN. Era il primo dei nostri titoli domani, lo sciopero generale di quattro ore a Milano, come in tutta Italia. I mezzi pubblici dell'ATM però saranno regolarmente in servizio, causa partita della nazionale a San Siro contro la Germania. Possibile agitazione invece per il personale di Trenord dalle 10 alle 14, quindi i disagi qui non sono assolutamente esclusi. I sindacati CGL, Cisle e Will hanno organizzato una manifestazione con un corteo che alle 8 e mezza partirà da Porta Venezia e arriverà in piazza della Scala Carreras. Domani niente sciopero per i mezzi pubblici dell'ATM, metropolitane, tram, filobus e autobus saranno in servizio regolarmente. Quindi non ci saranno i previsti disagi dalle 18 alle 22. I sindacati CGL e Cisle e Will hanno revocato l'agitazione dopo l'incontro col prefetto Francesco Tronca, che aveva paventato rischi di ordine pubblico a causa della concomitanza dello sciopero con la partita di calcio Italia-Germania allo stadio Meazza. Resta invece l'agitazione per quanto riguarda il personale di Trenord. La società ferroviaria ha fatto sapere che dalle ore 10 alle 14 i treni regionali e suburbani potranno subire ritardi, cancellazioni o variazioni di percorso. Al di fuori di questa fascia oraria invece tutto sarà regolare. Ovviamente domani resta lo sciopero generale che coinvolge tutte le altre categorie del mondo del lavoro, indetto dai sindacati confederali contro la legge di stabilità per far sì che vengano date più risorse a lavoratori e pensionati. A Milano i disoccupati sono 140.000, il 7,8%, interessati soprattutto i giovani, le donne e gli ultracinquantenni che hanno perso il lavoro. 50.000 sono i cassi integrati e di questi 20.000 non potranno far ritorno nel luogo di lavoro. Nel capoluogo Lombardo domani si svolgerà una manifestazione con corteo, partenza alle 8.30 da Porta Venezia e arrivo in Piazza della Scala, dove parleranno Susanna Camusso, segretario nazionale della CGL, oltre a Gigi Petteni e Walter Galbusera, segretari lombardi di CISL e UIL. E di ATM abbiamo sentito, c'è stata la revoca dello sciopero per domani, oggi invece il taglio del nastro della nuova sede operativa dell'Agenzia di Trasporto Pubblico a Milano che unifica il controllo delle tre linee metropolitane, 11.500.000 euro il costo sostenuto dall'Azienda dei Trasporti. Massimo Scarinzi era lì per noi. Una sala operativa veneristica tappezzata di maxi schermi a LED, 25 postazioni di lavoro e un flusso in interrotto di immagini da oltre 4.000 telecamere. E' la nuova sala controllo di ATM inaugurata questa mattina in via Monterosa 89 a Milano che unifica la regia delle tre linee metropolitane rossa, verde e gialla, mentre il controllo della Lilla rimane per il momento al deposito di Bignami. Da questa sala i tecnici di ATM monitorano la rete di trasporto della metropolitana, telecamere capaci di scrutare in qualsiasi istante cosa accade all'interno delle stazioni delle linee 1, 2 e 3 e intervenire in modo immediato per correre ripari in caso di problemi e di servizi. In diretta le comunicazioni con i macchinisti, le distanze, i tempi, le frequenze, gli allarmi e i ritardi. Una centrale unica sul modello delle più efficienti reti di trasporto europee e mondiali, studiata a lungo, che permetterà di centralizzare il controllo delle tre linee. Una sala costata 11 milioni e 500 mila euro. I vantaggi dichiarati vanno dall'ottimizzazione della gestione dei treni alla velocizzazione degli interventi in caso di allarme, maggiore efficienza dei protocolli di sicurezza e riduzione dei guasti. Con questa nuova sala operativa che unisce le tre sale prima separate c'è una capacità di reazione a qualsiasi evento molto molto più immediata. La sala serve soprattutto per governare il movimento dei treni, ma come avete visto governa anche l'impianto elettrico, la visione di quello che avviene dentro le stazioni. Quindi ogni operatore ha la possibilità di intervenire immediatamente. E' ancora battaglia dura tra il Comune di Milano e la sovrintendenza per quanto riguarda il progetto del nuovo Vigorelli. E' arrivato il ricorso al TAR da parte del Comune di Milano, quindi si preannunciano nuovi slittamenti e ritardi rispetto al futuro del velodromo milanese. La volata più lunga questa volta la sta pedalando il velodromo Vigorelli, tempio della velocità su due ruote per anni al centro della scena internazionale, oggi cattedrale dal futuro incerto. Ancor più dopo che Palazzo Marino ha deciso di riprendere in mano le carte e fare ricorso al TAR contro la decisione della sovrintendenza, una scelta che segue in ordine di tempo quella della sovrintendenza stessa, che aveva bocciato il progetto del Comune, che intendeva trasformare il velodromo in un parco sportivo polifunzionale. L'idea bocciata, i vincoli sono chiari, la pista ha un valore storico e non si tocca. Un tiro alla fune tra amministrazione e istituzioni, che rischia solo di peggiorare lo stato di salute della struttura, sottoutilizzata e poco valorizzata. L'impugnazione del vincolo era un atto dovuto per il Comune, anche considerate le diverse valutazioni fatte riguardo al Vigorelli dall'amministrazione stessa. Parole del vice sindaco del Comune di Milano, con delega all'urbanistica Ada Lucia De Cesaris e dell'assessore allo sport Chiara Bisconti. Il nuovo centro, finanziato con gli oneri di urbanizzazione di City Life, avrebbe dovuto essere pronto per il maggio 2015, in concomitanza con l'inizio di Expo, ma ora lo slittamento sembra inevitabile. Ma per fare cosa è ancora da capire. Nelle motivazioni ministeriali allo stop si spiegava che deve essere garantita la tutela e la conservazione dell'impianto, senza impedirne le trasformazioni e gli adeguamenti. Insomma, cambiamenti possibili ma lievi. E ora carte burocrazia permettendo, sarà il caso di pensare a quali modifiche sia bene mettere in opera. Il servizio era del nostro Stefano Fumagalli. Adesso diamo uno sguardo a quello che si può trovare, si può vedere nel letto dei navigli che sono stati messi in secca per la manutenzione. Cartelli stradali, bicchieri di plastica, bottiglie di birra, scatole di polistirolo da pescheria e ancora pezzi di scooter, sacchetti dell'immondizia condominiale e bottiglie di detersivo. Il fondo dei navigli in secca fino a fine novembre per consentire i lavori di riqualificazione della Darsena è una sorta di discarica. Come ogni anno, il Consorzio di gestione dei canali e AMSA, la società che cura i servizi di nettezza urbana a Milano, come sapete, effettueranno le operazioni di pulizia poco prima che l'acqua torni negli argini per evitare di dover ripetere l'intervento di pulizia più volte con spese inutili. Le foto che vedete però tratte dal sito del quotidiano Repubblica raccontano di una situazione ai limiti, anzi oltre i limiti della decenza, che testimonia il dilagare del mal costume di gettare qualsiasi cosa nei navigli e l'inciviltà di chi ha ridotto in questo stato i letti dei canali. Complimenti vivissimi a fenomeni responsabili di questa cosa che state vedendo. Questo è un cestino dell'immondizia buttato all'interno dei navigli, che ormai però è consuetudine, al quale però non ci si dovrebbe mai abituare. Un secondo stadio di calcio, un palazzetto dello sport e una piscina olimpionica sull'area di Ropero dopo l'Expo del 2015. Il progetto sta prendendo sempre più corpo. Sabato il sindaco Pisapia incontrerà il nuovo azionista di riferimento dell'Inter, Eric Toir. Il comune vuole che il nuovo impianto possa ospitare anche concerti e grandi eventi. Il CONI pare essere d'accordo. Sentiamo. Il progetto di creare una cittadella dello sport sull'area di Ropero dopo lo svolgimento di Expo 2015 appare sempre di più una possibilità concreta. Lo hanno confermato il sindaco Giuliano Pisapia, il governatore Lombardo Roberto Maroni dopo l'incontro con il numero uno del CONI, Giovanni Malagò. L'obiettivo è quello di realizzare un secondo stadio di calcio su parte dell'area Expo. È previsto per sabato un incontro tra Pisapia e l'indonesiano Toir, nuovo azionista di maggioranza dell'Inter. Ormai da alcuni anni la società nera-azzura è tentata dalla realizzazione di un proprio stadio sul modello di quello della Juventus. Martedì sempre Pisapia ha incontrato anche l'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, per sondare i progetti del club Rossonero, che sarebbe più interessato a rimanere a San Siro. Il comune però vorrebbe che il nuovo impianto non fosse indirizzato solo al gioco del calcio, ma anche ai concerti e ai grandi eventi. Sull'area Expo, oltre allo stadio, potrebbe sorgere una piscina olimpionica, un nuovo palazzetto dello sport e altre strutture sportive. Pisapia, Maroni e Malagò torneranno a incontrarsi nelle prossime settimane, forse il 4 dicembre. Nessuno per il momento lo ammette, ma è chiaro che Roma sarà la candidata alle Olimpiadi del 2024. Milano contribuirà a dare manforte alla candidatura della capitale e in cambio otterrà dal CONI finanziamenti per realizzare la cittadella dello sport. La pagina della cronaca adesso è stata trovata morta Francesca Tarca. A 33 anni la mamma scomparsa lo scorso 28 ottobre d'Amello, in provincia di Sondrio. Nel pomeriggio il suo corpo è stato ripescato dai sub nel lago di Como, davanti all'abitato di Gravedona, proprio a poca distanza dal luogo dove tre giorni dopo la sparizione era stata trovata abbandonata la sua auto. La mamma aveva una piccola di tre anni. Ah, una piccola di tre anni. L'ipotesi che gli inquirenti ritengono più probabile è quella di un gesto volontario, ma le indagini proseguiranno per accertare la dinamica di questa tragedia. Un factotum dell'ex consigliere regionale Massimo Guarischi, arrestato nello scorso marzo per un giro di presunte mazzette nella sanità Lombarda, racconta in aula di aver svolto diversi servizi per il politico e di aver ricevuto anche qualche mancia. In tribunale oggi ha parlato anche lo stesso Massimo Guarischi. Sentiamo. Sono andato nel garage del Pirellone, ho preso due valigie del presidente Roberto Formigoni da portare in Croazia. Parla Cesare Polli, amico e aiutante a chiamata di Massimo Gianluca Guarischi, ex consigliere regionale, nei guai per un presunto giro di tangenti nella sanità Lombarda. Il politico trascorreva le vacanze con Roberto Formigoni e il testimone ricorda di aver portato dei bagagli dal Pirellone fino in Croazia, dove l'ex governatore, Guarischi e altri nel frattempo erano arrivati in aereo. Valigie genere alimentari fino al ricordo di una cassa di champagne e servizi che gli avrebbero fruttato un compenso modesto di circa 250 euro. Qualche commissione, insomma, per l'uomo che si è detto esodato, visto che con Guarischi Cesare Polli è amico da almeno 30 anni, dice. Magari capitava di accompagnare Guarischi al Pirellone tra le 15 e le 25 volte in poco più di un anno, tra la fine del 2011 e il 2012. All'udienza anche alcuni titolari di agenzie Viaggi, che hanno confermato quanto già reso contato da alcuni testimoni. E tra le carte anche i bonifici e gli assegni dell'ex governatore Lombardo. E poi anche lui, l'ex consigliere imputato Guarischi, ha voluto dire la sua rilasciando ai giudici delle dichiarazioni spontanee. Io sono amico di Roberto Formigoni da 28 anni, è un mio amico caro e come si fa con gli amici lo andavo a trovare. E poi ha difeso la correttezza del suo operato e del suo rapporto di lavoro con la Hermex, la società degli imprenditori Lopresti, che secondo l'accusa avrebbe versato a Guarischi Mazzette in cambio dei suoi interventi per sbloccare i finanziamenti regionali della Giunta all'epoca guidata. Da Roberto Formigoni. L'ex cinema dei Amicis di via Caminadella a Milano è stato vicino alla Università Cattolica, è stato occupato dai collettivi per cinque giorni, fanno sapere i ragazzi, sarà un laboratorio studentesco. Vediamo. Si chiama Taz, la zona temporaneamente autonoma, così ribattezzata dai ragazzi dei collettivi che da ieri occupano l'ex cinema dei Amicis, Milano via Caminadella. A due passi dall'Università Cattolica è qui che sorge l'ennesimo stabile sfitto lasciato all'incuria, abbandonato dal 2002. I giovani del collettivo lanciano un'azione di protesta, un'occupazione lampo che durerà solamente cinque giorni. Domenica abbandoneranno il campo, non prima di aver mostrato alla città un altro spazio dimenticato, dove terranno una serie di iniziative in difesa della scuola pubblica, collegate alla manifestazione studentesca che domani partirà da Largo Cairoli. Il Comune di Milano ha lasciato che questo posto andasse completamente alla malora, senza preoccuparsi di quello che è il significato di questo posto, cioè cultura, cioè aggregazione, cioè socialità. Noi crediamo sia inaccettabile e come gesto dimostrativo l'abbiamo occupato ieri pomeriggio. Da oggi si susseguono incontri e assemblee sui tagli al finanziamento per la scuola pubblica e l'università, discussioni sull'invalsi e sullo stato di salute dell'edilizia scolastica, insieme alle proteste contro le spese per l'esposizione universale. L'idea è di costruire un laboratorio studentesco. Ci sarà spazio anche per la musica, con tre concerti previsti per venerdì, sabato e domenica sera. Il biancato è un laboratorio studentesco occupato, in quanto rilancerà e andrà a costruire il corteo del 15 novembre, domani mattina. Contro una scuola che cade a pezzi. Non si può studiare in una scuola dove crollano le finestre, dove crollano le porte, dove gli studenti non possono stare al sicuro. Via ai lavori per la realizzazione della Casa della Memoria all'isola, al quartiere di Milano, dove saranno ricordate le vittime del fascismo e di tutte le stragi. L'inaugurazione è prevista per il 25 aprile del 2015, l'anno dell'Expo. Sono iniziati oggi i lavori per la costruzione della Casa della Memoria a Milano, in via Confalonieri, un museo che sarà dedicato alle vittime del fascismo e delle stragi che hanno insanguinato il 900 italiano. Il primo passo è la trivellazione dei terreni, operazione necessaria e concordata con ATM per non interferire con le gallerie della Metropolitana 2. Almeno un anno la durata complessiva dei lavori per consegnare la Casa della Memoria alle associazioni. Qui avranno sede l'AMPI, l'ANED, l'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo, l'Associazione dei Familiari delle Vittime di Piazza Fontana e l'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia. 2.000 metri quadri distribuiti su tre piani con un foyer, un centro espositivo, gli uffici delle associazioni, una sala conferenze e un archivio. L'edificio è stato progettato dallo studio genovese Baocu e sarà finanziato attraverso i oneri di urbanizzazione dell'operazione immobiliare di riqualificazione dell'isola portata avanti dal gruppo Heinz per un costo complessivo di 3.600.000 euro. Il Comune di Milano punta a inaugurare la struttura per il settantesimo anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, una data simbolica, il 25 aprile del 2015. Sono felice di affrontare questa nuova avventura. Mi fermerò più di tre giorni e avrò l'occasione di incontrare Moratti e lo staff nerazzurro. Poche parole ma è l'inizio di una nuova era per l'Inter. Domani alle 10.30 all'Hotel Melià l'Assemblea dei Soci ratificherà il passaggio di quote e chiarirà l'assetto della nuova società a margine dell'Assemblea è prevista una conferenza stampa con Moratti e Toir sul banco oltre a questione di governance, deleghe sportive e non anche il progetto del nuovo stadio. Toir sabato come abbiamo già detto è atteso dall'incontro con il sindaco di Milano Giuliano Pisapia e il rafforzamento della squadra sul mercato ovviamente. Un'agenda fittissima insomma ma il nuovo socio di maggioranza dell'Inter nonostante il lungo volo intercontinentale è voluto passare anche da Appiano Gentile per fare una visita alla squadra. Ha parlato col capitano a Via Zanetti, ha parlato con Mazzarri, il tecnico della squadra Nerazzurra. Il presidente ha detto, finendo i suoi discorsi per oggi perché poi domani si presenterà anche a noi giornalisti ne parleremo domani appunto durante l'Assemblea di domani mattina, questa la chiusura di Toir per oggi. Di questo ovviamente parlerà Michele Marchetti di questo primo giorno di Toir a Milano con i suoi ospiti a Nova Stadio Sprintal, poco dopo la pubblicità e il meteo. Gli ospiti sono Gigi Balestra e Enzo Gambaro, alle 20.30 i motori con griglia di partenza, alle 11 torna invece l'informazione del TGN con l'edizione della notte. Per quanto riguarda questa edizione invece è tutto, dopo la pubblicità il meteo e poi Nova Stadio Sprint. Buona serata. Grazie a tutti.